Festival Time, sono in compagnia di Valentina Carati, è una ragazza bravissima che canta, ha una voce splendida, vince sempre un sacco di premi ed è qui a Casa Sanremo perché ieri ha ritirato un altro premio. Chiediamo a lei che cosa ha fatto e perché l'hanno premiata. Valentina. Ciao, ciao a tutti, grazie mille, è veramente un onore essere qui e grazie mille anche per i complimenti che mi hai fatto. Ieri ho ricevuto questo premio al Teatro Ivan Graziani qui al Palafiori perché dopo aver fatto il concorso di Radiolatte Miele che ho vinto come videoclip più visto e quindi mi hanno sentito molto sulle radio e quindi per farmi anche dei complimenti ho ricevuto questo premio come talento emergente. Complimenti Valentina, aspettiamo altre novità da te perché sappiamo che ne hai sempre tantissime, andate ad ascoltarla su YouTube Valentina Carati, non perdete questa voce. Festival Time, a voi la linea.